Quando siamo venuti qui ho visto che c'era un mondo nuovo, un modo diverso di avvicinarsi alla musica, di avvicinarsi alla cultura, no? Quasi nessuno sa che cosa sta succedendo qui in Venezuela e per me è l'esempio migliore da seguire, da tutti i paesi. I would say in my experience there is no more important work being done in music now than this being done in Venezuela. This is a message for the world that is the future of music, that this is an example that we can all learn from. I would say in my experience there is no more important work being done in the community. I think this is a message for the world that is good. I would say this is an example I would say today from me, I would say in my experience there is no more important work being done in�� kingdom. Grazie a tutti.